Assessore Scroferi, ma quanto costano oggi i quartieri? I quartieri hanno un costo importante, siamo oltre i 2 milioni. Nella logica della razionalizzazione della spesa che tanto ci sta a cuore, in questo caso andiamo un po' ad attenzionare quelli che sono i costi della politica, quindi riscontrano una certa sensibilità da parte del cittadino, noi vogliamo intervenire nella logica dell'azzeramento, anche se una riflessione più attenta si farà nei termini di Cassibile e Belvedere. I 2 milioni di euro sono comprensivi di tutte le spese, i funzionari, le sedi, gli affitti e le indennità di carica. Il risparmio verrebbe sulle indennità di carica, cancellando Presidente e Consiglieri? Vi è un importo sicuramente importante che è quello legato al personale, io ricordo che sono circa 53 i funzionari che in questo momento prestano servizio nelle circoscrizioni, questo significherebbe anche ottimizzare perché parte di questi tornerebbero nell'amministrazione centrale, proprio perché vi è anche carenza di personale. Ha attirato qualche critica la modalità scelta dal sindaco per annunciare questa rivoluzione con le circoscrizioni su Facebook, voi eravate a conoscenza, ne avete già parlato, lei chiaramente tiene poi i conti del comune. Sì, è un sindaco che va per le vie brevi, non per questo non si è consultato, abbiamo anche fatto un incontro con i capi gruppo e ne seguirà un altro in ordine a questo argomento, proprio perché da qui ne deriveranno quei suggerimenti utili che serviranno a migliorare la manovra. Lei ha in agenda una serie di incontri proprio con i quartieri, spiegherà anche il senso di questa rivoluzione? Sì, il giro dei quartieri è previsto proprio per spiegare lo strumento finanziario che andrà in consiglio ormai a breve. Anche se il parere dei quartieri non è vincolante, io lo ritengo necessario e opportuno proprio anche per un fatto di rispetto nei confronti di questo organo istituzionale. Si aspetta critiche su questi tagli annunciati, su questo colpo di spugna alle circoscrizioni? Beh, lo abbiamo messo nel conto, però io credo che bisogna fare un ragionamento più ampio nell'idea di una razionalizzazione della spesa che preveda e punti su tutte le voci del bilancio.